hai messo non mi piace brett e allora ascolta questo passo che conosco a memoria è perfetto per l'occasione zero mic 25 17 il cammino dell'iscritto timorato e minacciato da ogni parte dall'iniquità degli utenti egoisti e dalla tirannia dei commenti malvaci benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i fan attraverso la pagina facebook perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei post smarriti e la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a segnalare la nostra pagina e tu saprai che il mio nome è quello del signore quando farò calare il mio ban sopra di te becce gita 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 becce gita 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 g